il master arriva all'appuntamento per la sessione in orario e trova già tutti i giocatori presenti alcuni stanno ragionando su possibili sviluppi altri controllano la scheda uno addirittura sta correggendo il numero di frecce nell'inventario sono tutti molto concentrati qualcuno ha portato degli snack e c'è una birra sul tavolo con il cartoncino sotto per non inumidire il tavolo nel frigo portatile altre tre birre col ghiaccio quando il master saluta tutti rispondono cordialmente e prendono posto ordinatamente tutti hanno scheda dadi matita e gomma davanti a loro in silenzio i giocatori osservano il master e aspettano che inizi a parlare il master si sveglia di soprassalto nel buio del suo letto in un bagno di sudore tra le ronzola appiccicate e mette un rantolo gutturale e muore qualcuno di voi ha preso decisamente troppo sul serio questa cosa dell'horror di halloween signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e come vedete dal costume tradizionale siamo tornati allo speciale di halloween so che lo apprezzate tutti moltissimo anche quest'anno sono arrivati un sacco di contributi quindi vediamo quali sono le storie dell'orrore che voi avete mandato e cominciamo con gibril dopo la giocatrice di cine requie fresco fresco di quest'anno è arrivato il cercatore di attenzioni un ragazzo che conosco da diversi anni si è unito al gruppo per qualche mese quest'estate per fare un po di giochi di ruolo dnd quinta in particolare all'inizio si aggrega una campagna con un gruppo i neofici tutti amici anche suoi e si comporta normalmente sebbene caricativamente fosse ingombrante ogni tre per due momenti richiamava se l'attenzione per descrivere particolari del suo personaggio e cambiavano occhi che brillavano aure che apparivano medaglioni che cambiavano colore o addirittura si chiamava da solo dei tiri spesso tra lui e un altro giocatore a caso spesso rompendo la narrazione addirittura interrompendo proprio il master per raccontare cose sue oppure pretendeva che il suo personaggio rotto alla base sapesse praticamente ogni informazione per vivere il suo background per ora nel gruppo e neofiti lui non giocava da anni il master ha lasciato abbastanza fare gestendo anche bene le varie interruzioni o le giocate fatte esclusivamente in metagame non mi dilungo ma potete immaginare sì purtroppo credo la maggior parte di noi possa immaginare esattamente questo tipo di situazione il momento clou è stato quando ha completamente fatto saltare la partenza di una mini avventura di cine requie lol ma volevamo staccare dal fantasy e da dnd pathfinder per un po' pretendendo di avviare una serie di sessioni super high fantasy avevo la nausea ormai pg dai livelli 11 con i giocatori più esperti del gruppo con lui come master la cosa più allucinante è stata la prima e unica sessione fatta circa due ore e mezza tre ore di gioco i primi 50 minuti ha parlato solo lui introducendo la lore dell'universo piccola degressione non ci ha detto assolutamente nulla nella lore del suo universo ma pretendeva che i background fossero di un certo tipo anzi direi proprio assolutamente coerenti col suo mondo fatendoci fare giusto 4 5 tiri per farci scoprire altra lore dopo quest'ora e mezza il primo combattimento con un mostro di grado di sfida allucinante un'ora e qualcosa in tutto con altra lore alla fine un inizio decisamente leggero tra tutti senza metterci d'accordo abbiamo praticamente interrotto la campagna lì facendo saltare le sessioni anche senza volerlo tutti per motivi validi intendo lavoro palestra cavoli propri come detto venivamo da mesi di campagna fantasy volevamo staccare un po' si è offeso beh diciamo che questa è un racconto dell'orrore abbastanza standard intendo del gioco di ruolo in cui il master cerca di compiere ogni singolo errore possibile decisamente già dalla prima sessione del gioco quindi mettiamola così se non puoi distinguerti perché sei il master migliore poi pompe provare a farlo perché sei quello peggiore e per il nostro secondo contributo di quest'anno abbiamo un video di Giorgio Gandolfi oggi vi voglio portare questa testimonianza spiacevole che mi è capitata un paio d'anni fa nella mia prima sessione di gioco online venivo da un'esperienza un po' deprimente di gioco al tavolo dove erano alcuni anni che non giocavo e un mio amico con cui avevo fatto alcune campagne mi fa dai torna a giocare vediamo un attimo con dei giocatori nuovi vediamo come va e non era andata bene quindi dico vabbè dato che non sono in una zona dove ci sono moltissimi giocatori tra cui scegliere dico cerco online ho visto che ci sono un sacco di virtual tabletop che funzionano più o meno bene e di conseguenza provo a fare una campagnetta con della gente online cerco su gdr players mi contatta una ragazza che è amministratrice del server dove dove gioco attualmente e mi dice che ci sono quattro giocatori che sarebbero interessati a giocare ad una campagna di dnd 3.5 dico beh ci sta va bene proviamo a fare una sessione 0 giusto per conoscerci un attimo e vedere se c'è unione di intenti c'è la voglia di giocare assieme compatibilità eccetera che si parla si si discute e propongo una piccola campagnetta di una ventina di sessioni circa che avevo preparato e che prima di giocare facciamo una bella one shot che poi si è trasformata in una b shot per appunto vedere se c'era feeling tra di noi la one shot va bene e appunto questi quattro giocatori che erano appunto una ragazza e un ragazzo che si conoscevano già perché giocavano a world of warcraft assieme bravissimi nessun problema e poi c'erano i due giocatori che se si erano rivelati essere problematici un ragazzo di 18 anni o 19 che comunque aveva il testosterone a palla e un grafico di roma un power player di un certo di un certo spessore e anche un rule lawyer non da poco la storia che voglio raccontarvi però si concentra sul giocatore 18enne facciamo le one shot vanno bene facciamo l'inizio della campagna e mi sorprendo del fatto che arriviamo praticamente alla decima sessione non c'è mai stata una defezione cioè abbiamo fatto dieci sessioni consecutive tutti lunedì sera senza mai mancare un appuntamento per dieci sessioni nella mia esperienza era una qualche cosa di eccezionale fantasmagorico al che scrivo nella chat del gruppo che avevamo fatto su whatsapp e dico beh cavoli questa sera è la decima serata la decima sessione e non ci sono mai state defezioni dico complimenti e salta su il ragazzo quello di 18 anni che comincia a dire ma stasera invece non potrei perché mi è capitato di uscire eccetera con qualche ragazza qualche ragazza dici cavoli quante ragazze vuoi uscire uscirai con una per volta no 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 questo qui comincia a sparare piuttosto grosse e comincia a dire che esce con tre quattro ragazze a sera ok e salta la sessione si porterà il problema anche per la settimana successiva e per la seconda settimana invece il ragazzo comincia a scrivere si no stasera ci sono ce la faccio eccetera e il ragazzo di roma invece il power player comincia a che diciamo che non gli moriva la parola in bocca comincia a fare delle battutine anche un po abbastanza cattive in chat e diciamo che tu per tutte le due settimane c'è stato un po di battutine piccate di questo qui che voleva giocare e questo invece che aveva appaccato al che vabbè io lì da master e da moderatore della chat onestamente ho sbagliato non ho non sono intervenuto nel placare il tutto e praticamente dico vabbè dai meno male stasera ci sei così si va avanti si gioca eccetera va bene silenzio tombale per tutto il resto della giornata in chat arrivano le 21 e 30 ci troviamo tutti su su discord il ragazzo 18 anni non c'è aspetto 21 35 21 40 al che gli scrivo in chat non risponde mi scrivo su telegram dove avevamo la chat non risponde lo provo a chiamare chiamo sento che risponde e poi riaggancia il telefono se sbagliato riprovo a chiamare e mi dice il numero da lei selezionato non è raggiungibile eccetera provo a riscrivergli su telegram e mi dice il messaggio non è ricapitabile perché l'utente ti ha bloccato come abbia bloccato a chi chiedo gli altri se per favore lo provano a chiamare loro perché si sarà sicuramente sbagliato anche loro da che praticamente ci ha bloccati tutti noi abbiamo poi concluso la campagna senza di lui completamente sparito e la leggenda narra che sia stato fagocitato dalla sua stessa libido e sia praticamente venuto a mancare all'affetto dei suoi care perché altrimenti non non ci spieghiamo quanto sia successo e niente questa è la storia che ho deciso di raccontarvi proprio perché se avete notizie di questo ragazzo che magari in qualche altro gruppo ha parlato di questa campagna interrotta perché un giocatore un po cattivo gli aveva fatto dei commenti un po piccati eccetera vorrei almeno sapere come sta ecco sapere se appunto è ancora tra di noi gioca ancora di ruolo ecco ok diciamo che questa si commenta abbastanza da sola nella realtà è successa una cosa estremamente simile anche a me ma non voglio fare commenti in merito andiamo avanti e abbiamo la storia di eleonora bertani che ha subito danni emotivi dal gioco di ruolo da giocatrice alle prime armi non mi sarai mai aspettata di trovarmi a doverci star male per quel che a tutti gli effetti è un passatempo classica campagna fantasy che parte dall'1 per arrivare fino al 20 all'interno di questo party vi era un personaggio che odiava la magia chiunque la praticasse che nonostante gli era stato concesso a fatto che non andasse a limitare gli altri giocatori credete sia successo ovviamente no no francamente non ci avrei creduto neanche per un secondo ma credo sia più che altro esperienza il culmine si è raggiunto dopo tre anni giocate assieme in cui il personaggio del soggetto giocatore ha ritrovato il suo amore perduto questa fanciulla si è scoperta essere una sorta di generale minore del villain che aveva sterminato il popolo del mio personaggio pertanto io è ruolato che esprimevo due senso circa averla nella squadra come membro fisso premessa era un npc il giocatore in questione non contento di questa scena ruolata di il giocatore in questione non contento di questa scena ruola di tirare uno schiaffo al mio personaggio senza i tiri né niente ma non è questo il problema il problema è stata la risposta successiva io ho usato io ho usato ruolare di usargli comando per farlo inchinare ai miei piedi ovviamente con annesso tiro salvesa non l'avessi mai fatto il giocatore in questione esce dal roleplay si mette a fare il muso dichiarando che mi avrebbe ammazzato nel sonno il pg perché non avevo usato la magia su di lui francamente pensavo una risposta peggiore guarda ovviamente abbiamo annullato la scena in toto ci sono rimasta molto male perché a mio avviso così per un guerriero in armatura pesante come lo era il pg di tal giocatore sta allo schiaffo per una dozzella debuffer sta all'incantesimo innocuo ci tengo a precisare che se lui avesse ruolato l'ostedità ai miei confronti dal mio pg non ci sarebbero stati problemi l'orrore è stato il fatto che abbiamo trascinato nella realtà dannomi persino alla bambina come nota personale normalmente la prima cosa che chi ha un comportamento infantile fa è dare del bambino agli altri è semplicemente una cosa aneddote che hanno delle conferme di dati ma voi tenetelo a mente comunque la povera eleonora si è becchiata il classico giocatore attore con sindrome del protagonista se non fosse stata una neofita probabilmente avrebbe abbandonato la campagna tre anni prima e passiamo alla storia di stefano blubasso durante un torneo io ero il master stavo masterando uno dei gruppi che partecipavano tre ragazzi e una ragazza l'avventura prevede che a un certo punto un npc che interpretavo io doveva provarci con il personaggio femminile erano tre personaggi maschi e uno femmina caso volle che la ragazza aveva il personaggio femminile e io come da copione interpretando l'npc che era appunto rozzo da background ci provai in modo rozzo uno dei ragazzi si alza di colpo alla sedia e fa per darmi un pugno la ragazza era la sua ragazza e quello credeva e ci stessi provando davvero una reazione un po forte qualcuno potrebbe fare battute in merito a momenti scattava la rissa di quelle classiche da taverna ma stavolta dal vivo ho dovuto fargli vedere il testo che era solo per i master per fargli capire che non ci stavo provando davvero si sono calmati ma il tipo non era ancora convinto del tutto hanno ruolato malissimo essendo più concentrati ho dovuto dargli un brutto giudizio fortunatamente l'hanno presa abbastanza bene non li ho mai più rivisti ai tornei che organizzavamo da noi beh almeno la storia ha un lieto fine questo dobbiamo dirlo ora nel frattempo immagino che tutti abbiate pensato alla battuta quindi non c'è bisogno di spenderci altro tempo ma diciamo che al non saper separare la vita reale al gioco di ruolo questo probabilmente uno dei campioni indiscussi e adesso torna a uno dei primissimi ospiti del canale mirto musci che diciamo che di esperienza di fatti orribili nel gioco di ruolo ne ha da vendere ciao ragazzi ciao da mirto dal canale mirto gaming master kai mi ha chiesto di raccontarvi una storia degli orrori e io ve la racconto allora stavamo giocando un'avventura che si chiama slumbering tsar è una campagna vecchia scuola però giocata col sistema di pathfinder il nostro party si avventurava per queste terre queste distese di ossa e polvere di antichissime battaglie distese sterminate di deserto e di nulla ripeto deserto di nulla e questo è importante tanto che sfuggendo a qualunque logica il master che è il nostro generatore di orrori di questa di questo racconto specifica che si vedeva a chilometri a chilometri di distanza tanto che si poteva scorrere a 20 chilometri di distanza perché no la curvatura della terra qui su questo mondo non esiste giusto si poteva scorgere le antiche si potevano scorgere le antiche mura della città di tsar allora proprio perché noi non ci fidavamo di queste distese il nostro paladino a cavallo di un grifone stava facendo lo scout osservando la situazione da diverse decine se non centinaia di metri di altezza in volo no quindi pianura sterminata visibilità fuori di testa il paladino che fa lo scout è il mio mago che si teneva nelle retrovie per stare al sicuro bene cosa succede succede che il dieme tira gli incontri casuali solo che lo fa senza alcuna considerazione per la narrativa cioè se ne frega completamente di quello che stava raccontando e decide che compare un golem di ferraglia di detriti vabbè questo golem senza nessuna avvisaglia compare nel mezzo della pianura voi direte vabbè vedrete in lontananza sollevarsi di detriti un golem oppure furbamente ci dice passate verso dal vicino insomma un cumulo di detriti improvvisamente dal nulla in questa distesa di nulla il golem si solleva una round di sorpresa a nove metri dal gruppo agisce una round di sorpresa e decide di caricare un membro casuale del gruppo il mago che era dietro ok cioè io senza neanche aver tirato nessun dado fatto alcuna prova avuto nessuna descrizione nessuna avvisaglia il golem una round di sorpresa mi carica e mi fa pausa con nove attacchi allora il mio mago qualcosa come 70 hp ne subisce 140 di danni e il master chiede senti ma come stai e vado guarda sono morto tre volte voi direte a quel punto insomma la storia dell'olore sarà finita qui no non è finita qua dopo tutte le nostre dimostranze cerchiamo di far notare l'assurdità narrativa della scena il master riflette alla fine capitola va bene effettivamente il tuo personaggio potrà salvarsi ma solo se il suo aveva un pg legato aveva un alchimista che aveva affezionato un ragazzo che era rimasto in città solo se in cambio muore il tuo il tuo discepolo il tuo apprendista in città ma la scena è avvenuta sì ma è morto l'alchimista in città inutile dire che abbiamo mollato la campagna facendo una rivolta contro il master esattamente dopo questa brillante serie di decisioni spero che sia piaciuta questa storia degli errori ancora un saluto ciao da mirto ciao master kai grazie dell'occasione di poter raccontare questa meravigliosa storia degli errori ciao ragazzi e se pensate che questo faccia paura non l'avete visto giocare baldus gate 3 in live saltando del tutto il tutorial vi lascio il video in descrizione e per concludere abbiamo una denuncia di yuri geraci che ci dice che il giocatore più tossico se st'altro io da ragazzino era una merda assoluta ma ho avuto fortuna i miei amici me l'hanno detto con gentilezza mi sono vergognato come un cane e poi mi sono guardato allo specchio e poi abbiamo continuato a giocare assieme per molti anni poteva andare peggio poteva succedere esattamente la stessa cosa ma tu non avevi più i denti master peggiore c'è stato un tipo che si atteggiava manco fosse il papa e alla fine non era in grado di gestire incontri livello 1 preferenze incapacità di gestione dei conflitti anzi fulcro della peggiori scelte giudizi sui giocatori amor di pater famiglia di sto cazzo negando contro ogni evidenza la propria incapacità millantato sandbox puro in realtà puro railroad e poi ci sono altre cose talmente vergognose che non preferisco citarle nemmeno in anonimato campagna esplosa nel giro di poche settimane boom sì davvero giano dei master che sono degli egocentrici arroganti che pensano di essere chissà chi avrei dovuto parlarne nel libro che ho scritto tanto che sono bravo a masterare comunque per quest'anno credo che siate abbastanza spaventati quindi la terminiamo qui come sempre siamo andati lunghissimi perché sono arrivati un sacco di contributi e sappiate che poteva andare peggio perché un paio delle cose più stuzzicanti alla fine non hanno fatto in tempo a girarle ma probabilmente rivedrete per l'anno prossimo e i due sanno chi sono per il resto come sempre se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche per i prossimi video se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco del gruppo i telegram dove metto io i video manualmente quando escono e si riunisce anche la comunità del mastercare che è poi la fonte di perle come quelle che avete visto all'interno di questo video adesso la parola sta a voi scrivete qui sotto nei commenti le vostre peggiori esperienze orribili al tavolo da gioco e magari verranno citate nel video del prossimo anno come sempre io sono il mastercare e noi ci vediamo nel prossimo video